E torniamo quindi a parlarvi di Uomini e Donne di Maria De, Filippi e ovviamente, con Cipria Naftin e Andrea Nicolconte che, come potete chiaramente immaginare in questo momento, sono al centro delle polemiche. Il motivo mi sembra anche abbastanza semplice da intuire. Infatti il tutto va riferito al modo in cui hanno fatto la scelta. Ossia di fatto sì, sono scelti non comunicandolo alla redazione. La cosa ha fatto molto arrabbiare sia Gianni Sperti che Tina Cipollari, e la stessa Carina Cascella ha rilasciato dichiarazioni molto dure nei suoi confronti. Come vi abbiamo parlato in un articolo di ieri. Ma ovviamente anche Andrea Nicolconte e Cipria Naftin sono tornati a parlare e lo hanno fatto direttamente dalla loro pagina Instagram in un video, dove hanno offerto una loro ricostruzione dei fatti dell'accaduto. Ovviamente Ciprian prima fa i ringraziamenti ai tantissimi fan, che lo hanno seguito in questo suo percorso e dopo parte con il racconto dell'accaduto. Anna Nicolconte Vi volevo anche spiegare quello che è successo. Io proprio per l'intensità dei sentimenti che si provano nel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicol quindi sono andato letteralmente a prendermela. Come lei e Maria avevano chiesto. Diciamo che questa è la sua versione. Gli fa ovviamente ecco la stessa Andrea Nicolconte che dichiara. Ci teniamo comunque a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi e per noi e tutte le persone che ci hanno affiancato in questo percorso, le stesse che ad oggi sono contente per noi così come lo siamo noi. Questa è la cosa più importante perché se lo scopo del programma è trovare l'amore noi ci siamo riusciti. Questo è quanto dovuto ovviamente per sentire tutte le campane, tutte le spiegazioni del l'accaduto? Poi ovviamente come è giusto che sia ognuna di voi sì, sarà fatta la sua opinione su quanto successo.